Salve a tutti e bentornati su Crash Bandicoot Insane Trilogy, siamo arrivati a Snowbeats. Ok, che succede? No, questo l'avevamo già visto. Quindi Snowbeats, iniziamo. Da domani ragazzi torno al lavoro, quindi i video si caricheranno sicuramente sulla sera. E di certo non ci sarà una velocità... Cioè in senso... Non ne sono certo se i video usciranno ogni giorno, ecco. Io spero di sì, quindi... Vediamo come si mettono le cose. Ehi... Iniziamo benissimo. Ehi... Mezza cazzata l'ho fatta Bonus Vaffanculo Dai Ok Giusto per una questione Di vite e di bonus Se no non è che vado a prendere tutte le casse Ok Ok Ristallo preso Ok Ok ragazzi rieccoci C'è stato un piccolo problemino Secondo livello Air crash Ok Ok Ehi Attenzione Eh lo sapevo io Meno male che abbiamo due Fancuri Due vaffanculo C'è quella cazzo di piattaforma A meno che Bonus Ok 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 Ora qui dobbiamo stare attenti su queste nitro E sti cazzo di esplosivi vaffanculo L'ho rischiata Ok Tutto liscia La stanza del teletrasporto Biretz Ok qui andiamo a Siamo con l'orso Lo andiamo a cavalcare Ok Ok Eccoci qua E' un po' di difficile Abbiamo già il cristallo Abbiamo già il cristallo Tanti checkpoint ci salvano Mi stupisco se non muoio Che culo Che culo Ok Ok Questo lo faccio giusto per il gusto di farlo esplodere E questo è fatto anche In teoria stiamo facendo due minuti a livello Quindi due per cinque dieci Dieci minuti Arrotondiamo Arrotondiamo col boss 15 Perfetto Perfetto Ok 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 ora abbiamo pure questi ostacoli elettrici pure più avanti negli altri livelli eva fanculo che cazzo di culo stavo cadendo nel vuoto e viva fanculo ok il cristallo non può mancare fanculo le casse la stanza del teletrasporto la stanza del teletrasporto ok questi livelli mi hanno fatto sempre incazzare e vaffanculo facciamo il bonus ok ecco la gemma eh si la gemma il cristallo in molti livelli una volta mi ricordo che alcune alcuni cristalli li saltavo diciamo ma ho finito il livello ma non ho preso il cristallo che buco del culo che ho per poco mi stavano uccidendo ok 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 ah terminato così va benissimo andiamo al boss ok ok leon pom 10 cristalli su 25 continua così mi rimane poca energia sarà difficile comunicare ok boss comodo brothers comodo comodo i coccodrilli che rompono i coglioni fanno le piroette qua e non sbaglio questi sono pure abbastanza semplici come boss testiamoli molto easy come vedete è stato molto semplice infatti il video in 15 minuti l'abbiamo concluso ah vabbè considerando che c'è la parte di 2 minuti quindi siamo a 17 più o meno ok andiamo su ben fatto crash i fratelli comodo non erano certo alla tua altezza ma non montarti la testa rimangono ancora molti cristalli da raccogliere ricorda il mondo conta su di te bene raga ci vediamo nel prossimo video qui è di gamer ciao 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 ciao